Ciao, approfitto di una pausa per condividere con voi dei miei ragionamenti. Allora, si dice che il mondo di GNU Linux e del free software in generale si è troppo frammentato, che esistono troppe distribuzioni e troppi fork. Volete sapere la mia opinione? Intanto vi do una risposta breve. Sì, per me esistono troppe distribuzioni e troppi fork. D'altro canto, però, si potrebbe filosofeggiare sul significato della parola troppo. Cos'è troppo? Insomma, sappiamo tutti che se abbiamo un recipiente da un litro e dobbiamo riempirlo con dieci litri di roba, beh, quei dieci litri sono troppi. Sappiamo tutti che se abbiamo cucinato 200 grammi di pasta e improvvisamente vengono dieci invitati, beh, quelle dieci persone sono troppe, è chiaro. Ma nel caso di GNU Linux e del software in generale, cos'è troppo? Perché è troppo? Per chi lo è? Per noi utenti? Per gli sviluppatori? Beh, come vedete, la risposta deve essere necessariamente più articolata. Ed ecco quindi la mia risposta più lunga. Innanzitutto, dobbiamo considerare che stiamo parlando di free software, di software libero. E il software libero, per sua natura stessa, permette le modifiche. Chiunque può prendere il codice sorgente, apportare le modifiche di cui necessita, di cui abboglia, e poi eventualmente distribuire queste modifiche. Esistono, secondo me, delle modifiche che hanno un senso? Che apportano dei miglioramenti che a me piacciono? Sicuramente sì. Esistono delle modifiche che, secondo me, hanno meno senso di esistere? Sicuramente sì. Però è tutto una sensazione personale. È un modo di sentire mio. Non necessariamente corrisponde al modo di sentire di qualcun altro. Chiunque ha, ad esempio, la sua distribuzione preferita, chiunque ha il suo formato di pacchetti preferito, chiunque ha il suo init system preferito, e così via. Adesso, quando si dice che questa frammentazione è deleteria per il mondo GNU Linux e che sarebbe preferibile concentrarsi su un unico progetto al posto di disperdere le energie su diversi progetti, a me sembra che non si è ben capito quale sia lo spirito del free software. Non puoi, insomma, vietare la modifica del software. Mettiamo che vogliamo concentrarci tutti su un'unica distribuzione. Beh, quale scegliamo, intanto? Mettiamo che per un giorno si vietano le modifiche al codice. Quindi esiste un unico progetto. Quale scegliamo? Scegliamo Ubuntu, scegliamo Linux Mint, scegliamo Arch Linux, scegliamo Gentoo. Vedete che non è facile. Se scegliamo Ubuntu, beh, andiamo a scontentare tutte quelle persone che utilizzano Arch Linux, Gentoo e qualunque altra distribuzione. Se scegliamo Arch Linux andiamo a scontentare chi sceglie Ubuntu, Linux Mint, MX Linux e così via. Direi che non c'è altra scelta che accettare il fatto che il free software è modificabile e che quindi, proprio per questa sua natura, darà sempre vita a nuovi progetti, a nuovi fork. Esistono centinaia, se non migliaia, di distribuzioni. C'è poco da fare e questa è la realtà. Questa è la realtà del free software. Voi cosa ne pensate? Bisognerebbe concentrarsi su qualcosa? Non so, capisco quando si parla, ad esempio, di formato dei pacchetti. Per uno sviluppatore che va a sviluppare un'applicazione, magari può essere dispersivo poi andarla a sviluppare per diverse distribuzioni, ognuna con il suo formato di pacchetti. Ecco perché sono nati progetti come Flatpak, eccetera, no? Ma per noi utenti direi semplicemente di apprezzare la libertà che ci è stata donata, grazie al software libero, e di godercela, insomma. Ditemi la vostra nei commenti. Ciao!